Alla Spezia quando si parla di alberi si pensa inevitabilmente alla storia di Piazza Verdi e dei Pini e a distanza di un po' di anni si torna a parlare di Pini ma in un'altra zona della città, via San Francesco. Purtroppo il verde di Spezia è un verde vecchio, è un verde marcurato, è un verde dove è facile che ci siano dei distacchi di rami e quindi dovremo affrontare l'argomento nella sua globalità. Come ho già detto penso che però anche dimostrando una maggiore sensibilità verso quelle forze ambientaliste e animaliste che hanno chiesto per via della nidificazione almeno che il taglio potesse essere fatto a metà settembre si poteva tenere conto e si poteva appunto posticipare l'abbattimento di quei 18 alberi che vengono dichiarati compromessi cioè a fine vita, cioè senza possibilità di essere recuperati neanche con cure fitopatologiche non si poteva curarli però non sono come dire pericolanti neanche laddove sono intervenuti i vigili del fuoco si era in presenza di un albero pericolante c'è stato un distacco di rami e dicono che la zona non è sicura e quindi la prima cosa che andava fatta per metterla in sicurezza era potare l'albero impedire che si potessero staccare altri rami non tagliare tutto l'albero o quando cade un cornicione abbattiamo il palazzo Secondo lei il tavolo del verde è stato scavalcato come strumento? Beh di fatto sì l'effetto è questo l'apparenza è questa di non utilizzare le risorse che il tavolo può rappresentare sul piano dei consigli, dei suggerimenti significa non sfruttare un'opportunità, una realtà presente sul territorio di appassionati, di tecnici anche della società civile utilizzarlo solo per ratificare delle decisioni inevitabili mi sembra impoverire la vita civile della città il tavolo del verde nasce per arricchire, per accogliere suggerimenti da parte appunto non necessariamente provenienti dall'amministrazione e finora questo non credo che l'amministrazione sia riuscito a accogliere